A quanto pare molto presto incontriremo un nuovo membro tra i giocatori di Squid Game! Oh, è molto più difficile di quanto pensassi! Spinga di più! Avanti, si sbrighi! Serve un altro giocatore! Giocatore 67! Giochiamo a biglie qui, ora! Forza, scelga! Devo assolutamente indovinare questa! Purtroppo ha perso, che sfortuna! Prendiamo noi, bambino! Melodia, grazie! Ehi, ma dove lo portate? È il mio bambino! Non ne avete il diritto! Benvenuto nel gioco, giocatore 456! Ah! Sveglia, amico! È ora di alzarsi! Perché stai sdraiato lì? Forza, forza, svegliati, bella addormentata! Ma che succede? Dove sono? Guarda l'ora! Hai dormito tutto il tempo! Un attimo, ma questo? Come sono arrivato qui? E questi vestiti? Qualcuno può spiegarmi che succede? Beh, perché stai urlando? Calma, ti va tutto bene! Non c'è bisogno di farsi prendere dal panico! Ehi, Andrew! Stai fermo e non muoverti! Così? Perché sei così nervoso? Lui si agita, ma sono io che mi vergogno! Ecco, risolvi questo, veloce! Ok, ora non muoverti, luce rossa, luce verde! Finalmente, ecco, veloce, facciamo il test! Ehi, ps, qual è la risposta? Fammi vedere! Dai, nessuno! Uno, due, tre! Cos'hai nella terza? Non quadra per niente! La radice quadrata di cosa? È impossibile capirlo! Dove posso trovare la risposta a cosa? Oh no, quello no! Studente, 218 eliminato! No, basta! Ma perché? Che è successo? Per lui è finita! Io che devo fare? Calmati, calmati! Studente, 456 eliminato! Oh, no, no, no! Ok, questo è imbarazzante! È il momento di uscire! E quello cos'era? Beh, dove andiamo ora? Ok, cosa abbiamo qui? Oh, ciao! Come stai? Oh, uno studente nel posto sbagliato! Probabilmente ora è il momento di andare! Arrivederci! Ma se andassi lì? Oh, lì! Cosa? Squid Game College! Allora, si fa così, eh? Prendi questo! Oh, perché? Beh, ora devi avere paura perché tocca a me! Oh, è solo il pavimento! Basta, ma che significa che hai vinto? Sì, ho vinto! Ora sono il campione! Cosa? Chi sei? Che sta succedendo? Sì, la fortuna l'ho abbandonato! No, lasciami in pace! Wow, ed era solo un gioco! Che state facendo? Non è colpa mia! Stavamo solo scherzando! Ehi, giochiamo? Ok, io prendo quella rossa! Vai, vieni dentro! Ecco, siediti e rinfrescati! Oh, ma perché? E dove siamo? Stai fermo! Oh, cos'è quello? A proposito, hai già capito cosa c'è in questa pentola? Scrivi nei commenti sotto al video se hai indovinato! Oh, ora mi ricordo! Perché ridete? Davvero non posso! Non farci caso! Se è così divertente, presto capirai! Che vuol dire? Ecco qua! Beh, e questa borsetta cos'è? Vediamo! Oh, perdente! Che significa? Non preoccuparti, fanno sempre così! Hai visto la sua faccia? È così ingermo! Non ascoltarli, sono solo degli esibizionisti! Ma che puoi fare, Pete, allo studente più popolare? Guarda, c'è anche una scritta sotto la sua foto lo studente più popolare, come ho detto io! Capito? Sfigato! Guarda qui! Sì, è tutto mio, sono il più figo! Che significa che hai vinto? È vero? Oh, sì, è vero! A quanto pare in questo insolito college non conta solo la conoscenza! Wow, niente male! Anch'io voglio essere così! Yeah! Questa sì che è vita! Ti metto in un posto sicuro con le altre! Così! E tu qui! E tu qui! Perfetto! Benissimo! Quando inizierai il gioco non vedo l'ora di mostrare le mie abilità! Allora, cominciamo! Forza, forza! Posso farcela! Grazie, so di essere forte! Oh, beh, come stai? Dai, ti batterò! Uno, due, tre, quattro! Ora corriamo! Uno, due... Oh, è per me! Ma io ho bisogno di un partner! Ok, dammi la corda! E adesso che succede? Facciamo un nodo! E poi allenati! Ok, grazie, ho capito! Proverò ad allenarmi! Ok! Ehi, ci stai provando o no? Beh... È proprio come pensavo! Cosa abbiamo qui? Cosa? Ancora ha? Beh, ok! Un giorno ti raggiungerò! Sono così figo! Che c'è lì dentro? Tu? Contro di me? Oh, certo! No, grazie! Posso fare a meno di te! Allora... Ah, ho un'idea! Ecco, solo un po' di più! E qui, per sicurezza, un ultimo ritocco! E ora sistemiamo tutto un po' di più! Sì, ce l'ho fatta! Oh! Ehi, guardia! Guarda qui! Guarda, hai visto? Sai che sono un tuo fan? Mi è piaciuto il modo in cui l'hai battuto! Sei così forte! Ma è stato facile! Però è vero, sono molto forte! Oh, è vero, facciamo una foto! Ok, solo un minuto! Sorridi? Sono ancora qui! Guardatemi, ehi! Oh, accidenti! E se macchiassi la mia maschera... No, cattiva idea! Bella foto! Ok, facciamone un'altra di me con la maschera! Sarebbe figo! Oh, no! Meglio non se ne accorgano! Oh, no! Ma chi è stato? Beh, ora vedrai la mia rabbia! Cosa è stata una coincidenza? Ecco, sarai punito per questo! Ma non sono stato io! Allora perché hai le mani coperte di slime? Ma io stavo solo sollevando il bilanciere! Sì, certo, come no! Prendi una F! Che ingiustizia! Non è stato carino da parte mia! Questo è il tuo posto, Stefani! Preparati per la lezione! Oh, è Andrew! Ho bisogno di parlargli! Ciao, come stai? Cosa? Niente male! Solo che se mi parli non sento che dice la guardia! Non è affatto interessato a me! Oggi faremo un test passate ai moduli! Certo! Questo è per me! Questo è per te! Questo è per Andrew! Ecco! Che c'è che non va? È strano! Qual è la radice quadrata di... Non capisco niente! Stefani! Oh, no! Ehi, Pete! Oh, sono nei guai! Questa la so! Ehi, Stefani! Sono io, Andrew! Ricordi! Certo che ti ricordi! Silenzio in classe! Sì, certo, solo un minuto! Che posso fare? Ah, ma certo ci sono! Lo farò! Le mosche sono così fastidiose! Ciao! Via, via, via! Vediamo! Wow! Grande! Grazie! Mi raccomando, buttalo via! Wow! Questo è fantastico! E anche questo! Grazie! Che colpo di fortuna! Bene, bene! Scriviamolo! E vediamo se ha funzionato! Grazie per il tuo aiuto! Oh, non fa niente! Beh, davvero grazie! Chi è che sta barando? Cosa barare? Come vi permettete? Beh, basta! Siete dei truffatori! No, non è vero! Ehi tu! Per punizione servirà immensa! E ora vai! Guarda, sono un mostro dagli occhi a uomo! Sì, sì, molto divertente! Guarda che porridge terribile che c'è! Vedi? Oh, è molto disgustoso! Sì, è vero lo è! Oh, ma che cos'è questa puzza? Ora non la sento più! Non riesco a respirare! Oh, che puzza! Oh, è vero! Ciao! Volete del porridge? Che state guardando, eh? Quello cos'è? Lo chiami cibo? Oh, che ridere! Nessuno mangerà mai quella colla! Pensano davvero troppo a loro stessi! Senti, ho un'idea! Dai, sorprendimi! Sembra che il popolare Pit sia il giocatore più figo del college per un motivo! Oh, wow! Che figata! È appena in tempo! Bene, bene! È ora di mangiare! Oh, che vuoi? Potrei avere anch'io questo tipo di cibo? Pronto, sono di nuovo io! Sì, vorrei replicare il mio ordine! Oh, fantastico! Molto veloce! Grazie, amico! Ma il nostro porridge dovrebbero mangiarlo tutti! Ehi, Pit, posso averne anch'io un po'? Sono qui per niente! Che dovrei fare adesso? Guarda, anche il frontman in persona non mangia questo porridge! Delizioso! Che figata! Bene, com'è la tua cena? Ti piace? Ho anche questa bella pentola! Che c'è dentro? Dai un'occhiata! Dai, non avere paura! Sarà meglio mettere una molletta! Wow, quanto fumo! È interessante! Ora ci vendicheremo di te! Certo! Oh, sembra che funzioni! Cos'è questo odore? Oh, mi sto avvenendo sonno! Sembra che abbia funzionato! Hai già capito che c'era in questa pentola? Scrivilo nei commenti, per favore! Oh, ho un'idea! Sì, coprilo! Con attenzione! Bene! E ora il tocco finale! Mettiti in posa per noi! È meraviglioso! Ancora un'altra? Bene! E questo è davvero divertente! Chissà se gli piacerà! Fico! Questo muro è a posto! Facciamo anche l'altro! Vedremo quanto si sentirà figo adesso! Wow! Non pensavo fosse così fotogenico! Ehi, silenzio! È una sorpresa, giusto? Ah, che ridere! Sembra che i ragazzi abbiano deciso di dare una lezione al presuntuoso Pitt! Vediamo a cosa congurrà questo piano! Oh, guarda! È stato aggiornato il tabellone che sta succedendo qui! Che c'è di così divertente? Cosa? Ma niente! Stavamo solo... Oh, siete davvero crudeli! Sì, scappa! Un momento! Beh, smettiamola di ridere e andiamo! Ma che succede? Non capisco! Nemmeno io! Ma come può essere? La mia reputazione è finita! Smettila di piangere, va bene? Alzati, va tutto bene! Facciamo una foto! Smettetela niente più foto! Oh, non farci caso! Sapete, io non ho avuto una famiglia normale! Ecco chi era mia madre! Riuscite ad immaginarlo? Sì, questo college per me è come una famiglia! Beh, non preoccuparti! Oh, poverino, che tristezza! Beh, ora va tutto bene, ok? Noi ti sosterremo e nessuno rigerà mai più di te! E il frontman è come un padre per me! Si è preso cura di me fin da bambino, mi ha dato cibo, vestiti, mi ha cresciuto come meglio poteva! Ho il cuore spezzato! Non posso neanche immaginarlo! Wow, che storia! Ehi, va! Tene, questa è una conversazione privata! Sai che ti dico? Ora diventeremo migliori amici! È la prima volta che qualcuno vuole essere mio amico non solo per la mia popolarità! Non mi sentirò più solo! Yeah! Ciao!